La specie umana, con i suoi 7 miliardi di esemplari, rappresenta soltanto lo 0,01% dell'intera biomassa. Le piante sentono, provano emozioni, elaborano strategie e prendono decisioni. Nel live di Botanica, i The Producers e Stefano Mancuso, con suoni, musica e parole, svelano le caratteristiche dello straordinario mondo vegetale a un pubblico ampio, in modo semplice e approfondito. Un progetto musicale firmato The Producers e Aboca, che ha fatto tappa a Sansepolcro, nel corso del Festival del Cammino di Francesco. Una nuova visione delle piante, cioè il fatto che le piante siano degli esseri viventi molto più complessi di quello che normalmente percepiamo, sono in grado di essere, diciamo, intelligenti in un loro modo particolare, memorizzare, comunicare, avere vita sociale, tutte cose che normalmente non vengono percepite e che invece è fondamentale conoscere perché poi alla fine noi amiamo soltanto ciò che conosciamo e quindi bisogna cominciare ad amare le piante. Quello che si apprende dallo spettacolo è guardare alla natura le piante in maniera nuova, diversa. Questo è un obiettivo reale, tangibile, concreto, che colpisce le persone. Ci auguriamo possa contribuire a cambiare un po' il modo in cui viviamo. I congeni così sofisticati esistono, si chiamano alberi.